La BCC di Acquara chiude questo 2020 orgogliosa per essere riuscita a continuare a sostenere senza sosta le famiglie e le imprese del territorio. La nostra banca ha fornito i suoi servizi, ha detto Antonio Marino, senza interruzione anche durante il periodo sanitario più difficile, sostenendo con numerosi interventi l'economia locale di famiglie e imprese. Nonostante quest'anno sia stato molto difficile, la BCC di Acquara si mantiene in buona salute e conferma la sua solidità patrimoniale e il rilevante radicamento sul territorio. La raccolta e gli impieghi sono cresciuti nel corso dell'anno ed è inoltre proseguita la missione di legame e solidarietà con le nostre comunità. A conclusione di quest'anno la BCC di Acquara, conclude il direttore Antonio Marino, vuole essere la prima a dare esempio di collaborazione territoriale, invitando tutti ad acquistare i regali natalizi presso le attività commerciali locali. Per questo la nostra banca ha lanciato la campagna A Natale io compro locale. Invitiamo i nostri soci e i clienti a sostenere questa campagna promozionale, ritirando il manifesto presso le nostre filiali e ad esporlo dove possibile.